L'Iceo Petrarca partecipa solo per la prima volta quest'anno insieme ad altri 388 licei di tutta Italia. È un'occasione per rafforzare l'idea che il classico è una scuola importante, ancora vivace, viva e che può ancora dare molto alle nuove generazioni in termini di formazione. Per noi è anche un'occasione per creare un evento da costruire tutti quanti insieme, genitori, alunni, docenti. Grande successo anche ad Arezzo per la notte dei liceo classici, scuola aperte fino a mezzanotte per far conoscere la bellezza del greco e del latino fra cortometraggi, musiche e buffet allestiti dai ragazzi. Lo studio delle materie che si fanno al classico, dalle lingue antiche, il greco e il latino, ma ormai anche tanta matematica, fisica e scienze, non soltanto stimolano la creatività ma anche il sapere logico e quindi il ragionamento, l'abilità critica e quindi la comunicazione, la capacità di sapere interloquire con gli altri. Io penso che queste siano oggi le qualità più richieste dal mondo del lavoro, più ancora delle conoscenze tecniche.